Adesso invece andiamo oltre Claudia, andiamo a parlare della salute materna ed infantile, della prevenzione e della cura delle malattie. Abbiamo messo due aree di intervento insieme, quindi invitiamo nel salottino... Sì, io vorrei invitare Giuseppe Masnata del Rotary Club Cagliari, che è il presidente della commissione salute materna e infantile. Daniela, Daniela vieni per il progetto prevenzione e cura andrologica e ginecologica, prevenzione andrologica e ginecologica. E Maria Beatrice, se è arrivata Maria Beatrice Toro? Ancora no, benissimo. Allora ovviamente siete liberi di fare domande in qualunque momento, ovviamente interagire con i relatori, però appunto iniziamo. Allora, per quanto riguarda la salute materna e infantile, il tema che quest'anno vorremmo portare all'attenzione dei club del distretto è il tema della salute mentale. Abbiamo chiesto a Giuseppe Masnata, che è primario pediatra dell'ospedale di Cagliari, di portarci una testimonianza che va proprio in questa direzione. Prego Peppino. Grazie Claudia, devo ringraziare innanzitutto il governatore per questa attenzione e devo ringraziare anche il mio amico Gabriele perché fu lui a propormi di partecipare a questa avventura. Ora, io ho vissuto come tutti voi qui lo stress della pandemia e nelle prime fasi, nei primi mesi, noi medici abbiamo da una parte rallentato quelli che erano, abbiamo rallentato quelli che erano il nostro normale lavoro e ci siamo trovati a studiare molto perché era un nemico sconosciuto, è come se fossero arrivati i marziani, questa è la verità. Quello che non si è capito immediatamente, che si è capito dopo i primi mesi è che stava accadendo uno tsunami sulla salute mentale di tutti noi, di tutto il globo. E' incredibile, lo dico anche da pediatra, che noi abbiamo i numeri studiati di ansia nei bambini di 18 mesi, pesabile. Questi sono veramente dei dati che mi hanno colpito. Non avrei mai pensato che un bambino di 18 mesi avrebbe potuto avere un aumento dell'ansia, ma questo è stato pesato. Che è successo? Ma a seguire un aumento dei suicidi, c'è stato un enorme aumento dei suicidi, soprattutto sotto i 30 anni. E in estrema sintesi, questa situazione oggi che viene stigmatizzata in tutto il mondo, perché non viene riconosciuta, purtroppo potrebbe creare degli enormi perdite sociali della salute, delle vite economiche. Si parla di una perdita di un trilione di dollari all'anno per i prossimi 11 anni. Sono delle cifre che da un punto di vista dell'economia indubbiamente ci mettono un attimino in crisi. Vogliamo parlare del Rotary? Vogliamo parlare delle nuove generazioni? Vogliamo parlare della formazione? La diminuzione delle capacità strategiche nella compilazione della matematica e del risolvere. La matematica per ragazzi negli Stati Uniti è diminuita del 30%. La possibilità, la forbice sociale si allarga perché ci sono meno diplomi in tutto il mondo e ci sono meno lauree in tutto il mondo. Ma anche per il Rotary stesso come organizzazione è una tragedia. Vedete, questo è preso da un articolo, devo dire già piuttosto anziana, del 2020 di Anne Stein, che è la giornalista che si occupa del sito di Rotary International, molto molto brava, dove diceva Rotarians address mental health issues head on, cioè i Rotariani affrontano i problemi di salute mentale a testa alta, uno slogan, uno slogan, permettimi Claudia, io mi alzo perché la mia vista non è più così, mi metto così di lato. No grazie, questa è la traduzione delle prime pagine di quest'articolo. Dice il direttore dell'organizzazione mondiale della sanità, Gebregeusus, in pandemia aumentata del 25% l'ansia alla depressione, più di 264 milioni di persone sono affette da depressione e sebbene esistano trattamenti efficaci, tra il 76 e l'85% delle persone in paesi a basso e medio reddito non riceve alcun trattamento per quanto riguarda la salute mentale. Ovviamente in tutto questo, non in questa sala soltanto lo tsunami è passato, ma passa soprattutto sulle teste delle categorie più deboli di tutte le società, sia delle società sviluppate, del mondo occidentale, e quindi bambini, adolescenti, carcerati, che nelle società a basso reddito. Nelle società a basso reddito l'accesso alla salute mentale, al risolvere la salute mentale, è quasi impossibile. Questo tema è sul tavolo di tutti i governi, è sul tavolo di tutti i governi, perché questo può decidere anche l'avvenire di un paese, una guerra. Voi pensate soltanto al problema sociale, spero che ci siano dei sociologi in sala con cui confrontarsi, del problema sociale, del lockdown stretto, perché la Cina, evitando di comprare i vaccini Pfizer, perché sarebbe un colpo all'orgoglio cinese in questo momento, una delle prime potenze del mondo, non compra il vaccino Pfizer e cosa fa? Come strategia chiude. Ma chiude ed è molto strano che questo stia avvenendo, perché i cinesi sono tra i governi che fanno la migliore strategia a medio e lungo termine. È molto strano che questo stia accadendo e sta accadendo per un peccato d'orgoglio probabilmente, ma non sono io. Giuseppe, grazie per avere fino a qui già dato un quadro generale di tutto quello che è la tematica. Adesso entriamo nel merito del ruolo rotariano. Cosa fare come Rotary? Quali sono le proposte? Quindi, dappertutto è stigmatizzata e sottofinanziata la salute mentale. Le proposte sono queste. Contrastare lo stigma, cioè far sapere a tutti i rotariani, a tutti i club, che esiste il problema. Esiste anche tra di noi, sicuramente meno nell'età superiore ai 30 anni, ma esiste. Azioni, creare team locali di professionisti della salute mentale, promuovere conversazioni a tema con esperti, congressi locali e azioni nelle comunità, borse per psicologi, molto pratico, borse per psicologi nei reparti di neuropsichiatria infantile per contrastare il suicidio. Io ho ricoverato ad agosto di quest'anno in 20 giorni tre ragazzine di 13-14 anni che hanno tentato il suicidio e che sono state poi dopo portate nel reparto di neuropsichiatria infantile dove mancava la psicologa. Queste sono proposte, giusto Giuseppe? Ancora nulla è stato fatto, diciamo, da un punto di vista rotariano, come attività? Sono già state avviate alcune attività in quest'anno? No, questo è originale. Quindi noi oggi stiamo sensibilizzando su un tema importante e stiamo facendo delle proposte di come da adesso in poi potremmo agire e qual è l'elemento secondo te più innovativo che può chiamare anche i soci a essere coinvolti nell'operare in quest'ambito? L'elemento più innovativo è combattere lo stigma, tirar fuori il problema. Noi saremo il primo distretto a parlarne e a organizzarci. C'è stato un altro paio di club in Italia che in questi ultimi due anni sono organizzati ma attraverso i social, non hanno portato avanti dei progetti di azione importanti o delle borse o dei grant. Il lavoro di prevenzione nelle scuole è fondamentale. La comunicazione, quindi giustamente Claudia stava dicendo. La partnership, io non dovrei parlare quasi come conflitto di interesse perché io sono il presidente dell'Unicef regionale della Sardegna però la presidente Carmela Pace mi ha promesso un sostegno e tenete presente che l'analisi nella fascia d'età 0-18 è stata fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche dall'Unicef l'analisi scientifica su quanto pesa oggi. E volevo soltanto chiudere, se permetti, con una frase del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che non esiste salute senza la salute mentale. Grazie. Grazie, grazie Giuseppe. Allora da un progetto come dire che è da costruire ci sono stati dati indicazioni di base importanti e fondamentali la comunicazione ci aiuterà magari a divulgare l'urgenza sociale di questo problema e la partnership, esatto, con l'Unicef. Pacei invece ha un progetto che già ha una sua storia di due o tre anni dietro e che già vede in concreto la parte innovativa della progettualità rotariana e anche operativa. Sì, buongiorno a tutti. Io sono ancora a parlare del progetto di prevenzione andrologica e ginecologica che non è un progetto, come si dice per brevità di Daniela, no, è un progetto del distretto e io ringrazio i tre governatori che hanno voluto continuare, creare e continuare questo progetto perché un progetto se è continuato dal distretto diventa più importante, coinvolge più persone e sicuramente ci fa conoscere meglio. Quindi ringrazio il governatore Mollicone che ha voluto crearlo, il governatore Andrea e il governatore Franceschetti che hanno voluto continuare questo progetto perché è un progetto che ci ha dato veramente grande soddisfazione. Vediamo se inizio. Rientra ovviamente in una delle sette aree che è quella della prevenzione e cura delle malattie e abbiamo deciso di rivolgerci soprattutto alle scuole. Ciò non toglie che l'altro anno siamo entrate tutte le scuole della Guardia di Finanza che hanno molto apprezzato il progetto e che l'hanno distribuito in tutte le loro scuole. Perché è venuto in mente questo progetto? Perché la salute e la procreazione sta diventando difficile nei nostri giorni, c'è un aumento di sterilità, ci sono molte cause che se scoperte diciamo possono essere risolte in età giovanile, i ragazzi non hanno grande conoscenza dei problemi, molto spesso si vergognano soprattutto i maschi, manca il sostegno anche forse per impreparazione della famiglia, nelle scuole non si fa educazione sessuale e prevenzione per cui il Rotary veramente si è inserito in una fascia d'età dove mancava la comunicazione. Anche qui c'è stata una partnership che è venuta nel tempo, quella con le scuole innanzitutto, che sono ben felici di accoglierci perché loro sono obbligate a fare dei corsi di formazione. Quindi le nostre due ore di lezione sono ben accolte, ma soprattutto grazie a quello che diceva stamattina Roberto Ceparotti, al lavoro di alcuni club abbiamo avuto la partnership delle ASL. Cioè le ASL ci hanno conosciuto, hanno conosciuto e apprezzato il progetto e hanno voluto diventare partner dando non solo il patrocinio, ma facendo partecipare alla nostra conferenza un loro rappresentante, casualmente era un'allieva ostetrica che si era laureata con me, e hanno dato a disposizione gli ambulatori, i consultori che i ragazzi non conoscono, dove i ragazzi sono potuti andare a fare le visite gratuite. Quindi questo è un bel goal che il progetto ha ottenuto facendosi conoscere. La seconda importanza è che il progetto ha avuto un riscontro anche a livello di effettivo, perché in una scuola di Aprilia, e devo ringraziare il club di Aprilia Cisterna, i ragazzi sono stati interessati, hanno conosciuto il Rotary, ne hanno parlato e si è creato un interact scolastico con 90 ragazzi e adesso si starà facendo il Rotaract. Quindi da un nostro progetto c'è stata una ricaduta sull'effettivo. L'ultima cosa, sempre ad Aprilia, l'altra settimana, una nuova conferenza, hanno voluto partecipare anche i genitori, incuriositi e forse un po' intimiditi da questi argomenti di sessualità. Questi genitori hanno avuto modo di conoscere il Rotary e hanno chiesto di poter frequentare il club. Quindi vedete come un progetto l'utilità non solo oggettiva a chi è rivolto, ma anche aumenta l'effettivo. Quindi che cosa possono fare i club? Questo me l'hanno chiesto in tanti. Intanto conoscere il progetto, la videoclip è stata mandata tante volte, ma è a disposizione perché tutto il materiale è stato mandato a fine settembre a tutti i presidenti di club e a tutti i segretari di club. Comunque è a disposizione, sono ancora disposta a rinviarlo. Il club deve individuare una scuola. Allora forse è più facile nelle piccole città, ma anche a Roma, perché abbiamo tutti dei figli o dei nipoti che vanno in una scuola, individuare la scuola, parlare col preside, presentarli il razionale del progetto e ottenere una possibilità di fare un'ora e mezzo di questa lezione. La lezione è tenuta, se il club ha dei medici, benissimo. Se no ci sono dei medici della commissione che sono ginecologi, andrologi, sia di Roma che Lazio che la Sardegna, che è rappresentata molto bene come ginecologia da Gabriele Andria, e possiamo appunto partecipare a queste conferenze. Quindi veramente è un bellissimo progetto. Abbiamo visto che ha un riscontro importante, quindi vi consiglio di guardarvelo e se potete realizzare qualcosa con il vostro club e nella scuola della vostra comunità, veramente immaginiamo di dare tanta buona salute ai ragazzi. Grazie Daniela, grazie anche per aver evidenziato l'importanza di un progetto fatto bene che coinvolge anche scuole e quant'altro, sia, by definition, una ottima comunicazione anche esterna di quello che fa il Rota, e tanto che appunto alcuni genitori, come diceva Daniela, sono rimasti interessati. Volevo aggiungere una cosa, che nella commissione del distretto c'è anche il Rotaract e l'Interact, perché i due RD hanno dato disponibilità, ma non solo sulla carta, abbiamo fatto degli incontri con loro come nostri partner, e quindi anche il Rotaract è il primo interlocutore di questo progetto, perché poi la fascia d'età è quella. Tant'è vero che a Cassino è intervenuto anche il ragazzo Rotaract al seminario Rotary Foundation. Se posso lasciare un messaggio conclusivo, medici rotariani, ma anche sociologi sensibili al tema della salute mentale, vi invito da oggi stesso a approfittare della presenza di Giuseppe Masnata qui con noi oggi, perché l'intento nostro, sempre nell'ottica dell'innovazione, è quello di creare una task force del distretto 2080 per promuovere il tema della salute mentale, che come avete visto è di fondamentale importanza. Grazie. Grazie, grazie per quest'altro contributo. Penso che Maria Beatrice Toro non sia ancora arrivata, quindi eventualmente tanto la sentiremo poi nel pomeriggio sull'altro tema. Grazie, grazie davvero.